Un giovane imprenditore nel settore elettronica, come sta andando a un mese dopo il coronavirus? Allora, diciamo che ancora si sente forte la situazione epidemica che in questo momento ci sta offuscando la mente, quindi comunque ancora non riusciamo a capire la verità e l'entità, quindi penso che questa sia una cosa che da parte di tutti è importante. A un mese di distanza dico che oggi tutti quanti noi siamo focalizzati a capire come affrontare anche a livello economico questa situazione. La situazione a livello economico ci rendiamo conto che secondo me rispetto anche agli altri paesi siamo molto indietro, siamo indietro sulla medicina, sugli ospedali, siamo indietro sull'affrontare un'emergenza, perché è come una famiglia che non è riuscita a mettere da parte qualcosa per affrontare i problemi, è la stessa cosa nel nostro Stato. Oggi ci ritroviamo ad avere una situazione dove lo Stato non è pronto ad avere il salvatanaio per tutelare né noi, né i lavoratori, né chi purtroppo non è registrato ed è a nero, perché parliamoci chiaro, le tasse sono alte e forse tantissime aziende non hanno potuto registrare e tantissime persone si trovano in grande difficoltà. Questo è un dato molto triste e sicuramente come tante cose ci ha fatto rendere conto questo virus ci farà rendere conto quanto sarà importante domani rialzarci, però richiedere quali sono le vere necessità. Ripartire con uno Stato che ci possa veramente tutelare prima nella sanità è il diritto, il diritto al lavoro tutelato. Questa è la cosa veramente che dobbiamo volere e richiedere tutti anche per strada.